Il criterio dell'amore cristiano è l'incarnazione del verbo in Gesù. Non è un amore soft, astratto, filosofico, ma concreto, con le opere di misericordia, per toccare la carne sofferente di Cristo. È uscire continuamente dal proprio egoismo e andare al servizio degli altri. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omedia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato la prima lettura proposta dalla liturgia, dalla seconda lettera di San Giovanni Apostolo. È un dialogo d'amore tra il pastore e la sua sposa, la Chiesa, ha spiegato il Papa, nel quale l'Apostolo ricorda che il comandamento del Signore è camminare nell'amore, ma un amore diverso da chi non riconosce l'incarnazione del verbo in Gesù, dalle ideologie che scarnificano la Chiesa. Preghiamo il Signore perché il nostro camminare nell'amore mai, mai faccia di noi un amore astratto, ma che l'amore sia concreto con le opere di misericordia, che si tocca la carne di Cristo, di Cristo incarnato. E per questo il diacono Lorenzo ha detto che i poveri sono il tesoro della Chiesa. Perché? Perché sono la carne sofferente di Cristo. Chiediamo questa grazia di non andare oltre e non entrare in questo processo, forse che seduce tanta gente, no? Di intellettualizzare, di ideologizzare questo amore scarnificando la Chiesa, scarnificando l'amore cristiano. E non arrivare al triste spettacolo di un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa e una Chiesa senza popolo.